Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare di una delle attrici più talentuose e affascinanti del panorama cinematografico, Emily Blunt. Prima di immergerci nelle curiosità sulla sua vita, assicuratevi di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e lasciare un bel pollice in su se amate il mondo del cinema. Dopo tutto, Emily Blunt è un'icona in tutto il mondo. Cominciamo. Emily Olivia Laura Blunt è un'attrice britannica nata e organizzata statunitense. Nasce a Londra il 23 febbraio del 1983 e all'età di 16 anni si iscrive alla Hartwood House, un college nel Surrey rinomato per gli insegnamenti nel campo delle arti e dello spettacolo. L'anno successivo un agente la scopre mentre al Festival del Teatro di Edimburgo e inizia così la propria carriera come attrice. Debutta sul piccolo schermo nel 2003 recitando in Buddica, feed per la televisione di Bill Anderson e nello stesso anno appare anche nella miniserie Henry VIII. Ottiene il primo ruolo per il cinema nel 2004 quando è una delle protagoniste del dramma sementimentale My Summer of Love. Il grande successo però arriva nel 2006 con l'uscita nelle sale di Il Diavolo Veste Prada, famosa copedia in cui recita al fianco di Hannah Atway e Meryl Streep. Ma sapevate che Emily Blunt è imparentata con lo straordinario attore Stella Itucci? I due hanno legami familiari molto stretti. Infatti Felicity Blunt, la sorella maggiore di Emily, è sposata con l'attore dal 2012. La chimica sul set è stata evidente nei film come Il Diavolo Veste Prada e La Guerla di Charlie Wilson, anche se entrambi i film sono antecedenti all'unione. Probabilmente il grande feeling fra i due attori è sfociata in una grande amicezza anche fuori dal set. Emily Blunt è stata alloggiata per la sua interpretazione nel film Il Diavolo Veste Prada. Sorprendentemente, nonostante il suo straordinario ruolo, non ha ricevuto una nomination agli Oscar, tuttavia il suo talento è stato riconosciuto in molte altre occasioni. Ma la cosa più sorprendente è che Emily, nonostante la sua bravura, sia da tutti riconosciuta, ha vinto pochi premi in carriera. Ha vinto il primo come migliore attrice non protagonista in A Quiet Place, un Critics Choice Award in Edge of Tomorrow e un Golden Globes come attrice secondaria in Gideon's Daughter. Nella sua carriera è stata nominata altre 14 volte per premi prestigiosi, fra cui 5 nomination ai Golden Globes. Se avete visto Emily Blunt in film come Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio o Il Sicario, naturalmente in lingua originale, potreste essere sorpresi nello scoprire che l'attrice è britannica. Infatti il suo accento americano impeccabile ha spesso ingannato il pubblico dimostrando la sua versatilità come interprete. Emily Blunt e John Krasinski si sono fidanzati nel 2009 per poi sposarsi nel 2010 sul lago di Como. Da quel momento sono diventati una delle coppie più amate nel mondo di Hollywood, noti per la chimica che li unisce ma anche per le loro diverse collaborazioni insieme. I due hanno già due bambine, Hazel e Violet, nate rispettivamente nel 2014 e nel 2016, ma a quanto pare sembrano pronti ad avere anche altri figli. La Blunt stessa ha infatti raccontato al Telegraph della loro volontà di dar vita a una famiglia numerosa, considerando che entrambi vengono a loro volta da nuclei familiari molto ampi. Nel film di fantascienza Edge of Tomorrow, Emily Blunt ha interpretato il ruolo di Rita Vrataschi, una soldatessa incredibilmente abile. Ciò che potrebbe sorprendervi è che l'attrice ha effettivamente svolto molte delle sue acrobazie senza l'uso di una controfigura, dimostrando ancora una volta il suo impegno sul set. E sai che sempre su questo set Emily è scoppiata a piangere dopo aver indossato la tuta di metallo del suo personaggio? Il suo costume di scena era troppo pesante, ben 38 kg, e pensava di non poter interpretare la sua parte per come si era preparata. Per il ruolo nel musical Into the Woods, Emily Blunt ha affrontato un allenamento intensivo per prepararsi alle esibilizioni musicali. Ma le veri curiosità che riguardano Emily su questo set sono ben altre. La Blunt ha letteralmente salvato da un incidente Meryl Streep grazie al suo tempismo e ha evitato di cadere da un tavolo durante una prova. In più, sempre in questo film, Emily interpreta la parte di una ragazza che non può rimanere incinta. Ironia della sorte, Emily aspettava la sua primogenita. Nel film Il ritorno di Mary Poppins, Emily Blunt ha assunto l'iconico ruolo di Mary Poppins, precedentemente svolto da Julie Andrews. La sua interpretazione è stata ampiamente acclamata, dimostrando che è in grado di portare nuove vita a personaggi amati dal pubblico. Per prepararsi, la Blunt, prima delle riprese, ha letto tutti i libri di Travers, scoprendo che il personaggio di Mary Poppins era molto diverso da quello del film del 1964. Da quel momento ha deciso che la sua interpretazione avrebbe rispecchiato appieno il personaggio dei libri. E ok, sappiamo che Emily Blunt ha un talento immenso, ma lo sapevate che dai 7 ai 14 anni circa, Blunt ha avuto problemi nell'articolazione del linguaggio a causa di una decisa balbuzie. Come metodo riabilitativo, la ragazza seguì un percorso di direzione e recitazione, riproducendo diversi dialetti e accenti. La terapia funzionò alla grande e aprì alle porte a un fiorente carriera d'attrice. Ed eccoci arrivati alla fine. Ecco a voi 10 curiosità affascinanti sulla vita di Emily Blunt. Che cosa ne pensate di questa talentuosa attrice? Fatecelo sapere nei commenti. Se è piaciuto il video, non dimenticate di condividerlo, mettere mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sul mondo del cinema. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da YouTube Top Chart. Ciao!